Beh con le cornici dovrei dire prima di tutto era coi dipinti coi quadri io facevo dipingevo e ovviamente il quadro finito necessita anche del vestito diciamo che è la cornice e così andavo prima dei corniciai che conoscevo nei dintorni ma essendo che io facevo il falegname ho cominciato a farmi le prime cornici con gli stipiti delle porte così dove lavoravo in fabbrica poi la passione era che continuando così ho detto sono arrivato a un limite o faccio le cornici o rimango in fabbrica nel 1980 ho intrapreso questa attività che dura tuttora diciamo questo locale dal 91 però dell 81 che aveva un locale a lato diciamo che ora ho acquistato qua che sono quasi 100 metri quadri di esposizione tre cornici questo è un negozio laboratorio il cliente ti porta l'oggetto il soggetto può essere una stampa una fotografia un quadro senti innanzitutto anche dove che vuole cose che vuole anche mettere perché qualcuno ti dice non voglio spendere tanto uno fa la voglio bella così vi faccio vedere una campionatura che che ho qua vicino e decidiamo assieme e accostiamo i colori e tutto e dopo la cornice nasce ogni cornice ogni quadro ogni opera che ti portano necessita una determinata misura diciamo dopo ovviamente io metto del mio i clienti ti dice del suo troviamo un punto d'incontro diciamo questa è la tecnologia dell'artigiano diciamo una volta si faceva con gli elastici coi chiodi sugli angoli poi la ricerca dei formati delle cornici non era possibile farle a mano non era possibile questo ci sono molto spigolate particolari quindi si necessitava da una macchina ha preso una graffatrice poi anche il taglio una volta si faceva una macchina col disco una pendola si chiamava e adesso è tutto più semplificato diciamo però il lavoro è sempre manuale l'80 per cento è manuale posso dire moriavo mai mi conosce io avrò due generazioni che mi seguono se non ormai tre perché oltre 40 anni i paesi limitrufi me vengono da conegliano montebelluna e valdobbiadene o perché tanti da qua sono usciti poi vengono perché mi conoscono dall'infanzia però tanti paesi attorno mi arrivano come clienti invece abbiamo parlato della passione dei quadri no alcuni tuoi quadri sono appunto esposti anche i locali parliamo di castelbrando anche no ho fatto anche delle mostre internazionali fate tre anni ho fatto a barcellona in spagna roma tre anni tre volte venezia fatto a torino udine e dopo un posto che vado in villeggiatura ad alleghe l'ho fatta già tre volte e poi in tanti locali qua li do in conto vendita diciamo in visione abbelliscono il locale il cliente va vede magari se gli piace mi contattano quelli che faccio io che sono materici sono da toccare attirano diciamo poi andando avanti vedi l'evoluzione che ti viene naturale diciamo io ho i primi che questo genere ho iniziato nel 2005 a fare si titola orizzonti materici cromatici e dopo li ho perfezionati e via via dopo ho messo diverse diverse cose aggiungendo quello che vedo insomma